Durante una sera in cui non riuscivo a dormire decisi di prendere un sentiero nel bosco, un sentiero che avevo sempre visto da piccolo ma che non avevo mai percorso. Fino ad allora il percorso terminava vicino un vecchio monastero che sembrava abbandonato. Prima di arrivare però la mia attenzione finì su un grande cespoglio. Sembrava come se l'arbusto prese vita all'improvviso. Centinaia di occhi parirono proprio davanti quella pianta. Iniziarono a fissarmi con un nuovo sguardo privo di emozioni. Iniziai a tremare. Mi venne la pelle d'oca. Lecce di corsa. Il percorso arritroso verso casa. Soltanto qualche tempo dopo aver raccontato questa storia a un mio caro amico venne a sapere che vicino al monastero vi era una fossa comune. Erano stati seppelliti tantissimi monaci morti tutti insieme in misteriose e tragiche circostanze. Che ci sia una correlazione tra quello che ho visto in quel cespuglio e la morte di quelle persone?